Mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che vende al cuore, ma resta sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. I primi anni di lavoro qui sono stati molto particolari sicuramente, perché il borgo di Geshe era abbandonato da oltre 100 anni. La sensazione era più quella di essere pionieri in un luogo che effettivamente era stato abbandonato. Lentamente, cercando anche di avvicinarsi con una certa dolcezza agli spazi e al luogo, abbiamo provato a capire come si è evoluto nei secoli, quindi è stata una lente, graduale avvicinamento al luogo. Ci troviamo a Geshe, che è il termine dialettale che identifica il borgo di Gesio nel comune di Monte Crestese, nella Valle dell'Ossola. Valle dell'Ossola è una valle a nord del Piemonte, identificata dal bacino idrografico del fiume Toce. Il borgo di Geshe è all'interno di un reticolo di borghi nel comune di Monte Crestese. Più o meno questi hanno avuto una storia di spopolamento accentuata. Abbiamo deciso nel 2007 di avviare il progetto di villaggio e laboratorio e di concentrare tutte le attività didattiche in questo luogo. Inizialmente siamo stati io e la mia compagna Paola che abbiamo deciso di avviare questo motore con l'acquisizione privatamente di un primo edificio che abbiamo ristrutturato con le nostre mani quasi per intero. L'occasione per dimostrare che il recupero di un edificio tradizionale è fattibile e può dare una prospettiva di vita anche a costi inferiori rispetto ad altri formati più classici. Questo borgo noi lo abbiamo definito villaggio e laboratorio perché è un luogo dove si concentrano ogni anno nel periodo estivo delle esperienze di studio che vedono il coinvolgimento di università italiane e straniere legati principalmente al tema della pietra, della costruzione con la pietra e del restauro. Le attività didattiche che organizziamo con gli studenti hanno un formato che è sempre molto pratico. Ci piace dare la possibilità agli studenti che vogliono partecipare a queste attività di toccare con mano la pietra. Oltre alla costruzione con la pietra ci sono anche il tema di intervenire sugli aspetti energetici e sugli aspetti antisismici ad esempio. C'è un evolvere, un'energia e un desiderio di lavorare assieme e anche di realizzare qualcosa con le proprie mani che va crescendo dai primi giorni fino alla fine del corso. Ritengo che questo sia un aspetto molto affascinante di questa esperienza. Si può insegnare il significato del realizzare o di ricostruire qualcosa all'interno soprattutto di un gruppo. Il Borgo di Gheesce è composto da otto edifici. Di questi otto edifici, tre sono di proprietà dell'Associazione Canova e sono gli edifici sui quali andiamo ad intervenire attraverso sia il lavoro degli studenti durante i campi scuola estivi e anche grazie a interventi più importanti legati ai contributi che arrivano da fondazioni. Gli altri edifici degli otto, nella nostra visione di sviluppo del borgo, avranno una funzione privata, quindi private abitazioni e ad oggi di questi altri cinque, quattro sono stati acquisiti e hanno avviato un percorso di recupero. Per me l'Italia che cambia è il concretizzarsi dell'era della consapevolezza. Tutto si trasforma molto rapidamente. Siamo oggi figli di un qualcosa che mi piace immaginare come la consapevolezza di dover cancellare e tenere qualcosa dal nostro passato e di doverlo traghettare verso il futuro in modo positivo. Io sono tremendamente ottimista nella vita, per fortuna e purtroppo, e questo mi permette di poter osservare negli occhi di tanti ragazzi che incontro qua la voglia di cambiare in positivo.